Onorevole Fassino, è stato presentato questo rapporto sulle tendenze dell'euro mediterraneo, lei l'ha definito prezioso, perché? Perché il Mediterraneo è una dimensione fondamentale della vita del nostro paese e dell'Europa, basterebbe pensare all'intensità delle relazioni economiche, al tema dell'immigrazione, al tema della sicurezza e della stabilità del bacino mediterraneo, non c'è tema di un qualche rilievo che accada nel Mediterraneo che non ci investa direttamente, investe noi e investe l'Europa, tanto è vero che l'Europa sempre di più guarda il Mediterraneo non come alla frontiera sud ma come alla sua regione sud, però questo significa che bisogna fare delle politiche per costruire via via obiettivi comuni per problemi e interessi che sono comuni, questo è più difficile, c'è la consapevolezza che il Mediterraneo è strategico, questa consapevolezza non facilmente viene tradotta in una politica comune, perché ci sono differenze culturali, religiose, etniche, perché c'è un mare di mezzo che è più difficile da superare che una frontiera di terra, perché ci sono tanti ostacoli e tuttavia tutti questi ostacoli non possono non farci vedere che abbiamo bisogno di costruire sempre di più una politica comune per dare risposte a problemi che investono i nostri popoli nello stesso modo e quindi ha problemi comuni, bisogna costruire soluzioni comuni. Santa Fassino lei ha parlato di Europa, c'è un dialogo interculturale, l'Italia anche come parte integrante, che ruolo ha tutto questo? Quando si parla di rapporto con il Mediterraneo dobbiamo sapere che le dimensioni intorno a cui sviluppare questo rapporto sono molte, sono certamente la dimensione economica, gli scambi economici, gli investimenti, i problemi demografici, il governo dell'immigrazione, lo scambio culturale, il dialogo interreligioso, sono tutte dimensioni essenziali che vanno sviluppate facendo crescere accanto all'azione degli Stati e alle relazioni tra gli Stati forti relazioni tra le società civili e i vari protagonisti delle società civili. L'Italia naturalmente deve avere un ruolo essenziale, per noi siamo un paese fortemente proiettato nel Mediterraneo, viviamo della dimensione mediterranea come una dimensione fondamentale dell'identità del nostro paese, quindi è chiaro che in Europa ci sono alcuni paesi, l'Italia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, la Grecia, che per collocazione geopolitica, perché essendo immersi nel Mediterraneo sono più sensibili e proprio perché sono più sensibili e sono più direttamente coinvolti nella dimensione mediterranea devono svolgere un ruolo di punta nel far sì che l'Unione Europea sia all'altezza di queste sfide. L'ultima domanda riguarda anche il Medio Oriente, è emerso proprio durante la presentazione che ci sono dei freni a questo? Certo, uno degli aspetti fondamentali della vicenda mediterranea è il conflitto in Medio Oriente. Dare soluzione al conflitto israelo-palestinese è una delle condizioni per dare a tutto il bacino mediterraneo maggiore stabilità, maggiore sicurezza, per superare antichi conflitti e ferite che ci trasciniamo da tempo sulle spalle. È un conflitto complesso, difficile. Io penso che l'Unione Europea deve sentire tutta la responsabilità di concorrere insieme alle iniziative che ha assunto Obama per rimettere in piedi un negoziato nei tempi più rapidi possibili e arrivare a quella soluzione unica che può consentire di dare pace sia palestinesi che israeliani, cioè due stati per due popoli in un bacino mediterraneo fondato sulla cooperazione e sull'integrazione. Grazie. Grazie. Grazie.